Offriva diete a donne alle prese con la cellulite e a uomini con grasso in eccesso da smaltire, ma non avrebbe avuto i titoli per esercitare la professione di nutrizionista. Nei giorni scorsi i carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazione, hanno messo i sigilli allo studio della GK Slim di Giacomo Copelli al Civico 2 di Via Mazzini, in pieno centro, a Riva. L'ipotesi di reato e di esercizio abusivo della professione medica. Il titolare, 57enne di Mantova, è stato accusato di prescrivere diete e, in alcuni casi, anche massaggi senza avere i titoli abilitanti. Nel suo sito internet, Copelli, si presenta come bionaturopata, attività per cui si è formato in Italia e all'estero, ma secondo gli inquirenti, per la legislazione italiana non può comunque esercitare l'attività di dietologo. La proposta della GK Slim propone diete per tutte le esigenze, anticellulite, il programma più completo per eliminare la cellulite definitivamente, a 199 euro, dieta addome glutei cosce a 99 euro, dieta elimina grasso 9-11 chili in meno in soli 53 giorni, a 149 euro, ed altre soluzioni accattivanti. Ad insospettire gli inquirenti è il fatto che all'esterno del palazzo non ci siano targhe, solo il cognome sul campanello e le telecamere di sicurezza alla porta. Nello studio l'indagato aveva lettino, bilancia, testi di medicina e attrezzatura medica. Lo studio di Copelli è stato posto sotto sequestro insieme ad attrezzature, computer e contabilità. Le fatture sono migliaia, a dimostrazione che gli affari giravano a gonfie vele già da alcuni anni. Il titolare Giacomo Copelli, incredulo, si è affidato ieri al proprio legale e il penalista rivano Andrea Tabarelli De Fatis. Il bio naturopata rivano, questa l'indicazione che compariva fino a ieri pomeriggio sul sito ufficiale dello studio, poi uscurato alle 18, sostiene di possedere una lunga serie di attestati e diplomi, alcuni dei quali conseguiti anche all'estero. Si tratta di valutarne la validità per le attività professionali che si svolgevano fino a venerdì alla GK Slim della centralissima via Mazzini a Riva, dove Copelli ha trasferito la sua attività, operante in zona da diversi anni dopo averla esercitata anche in quel di arco.